Il paradiso delle signore è sospeso. Ecco da quando. Il paradiso delle signore, come tutte le sop e le fiction, ancora in fase di registrazione, va verso la sospensione. La stessa sorte è toccata, ad esempio, a Doc nelle tue mani, che non avrà, almeno per ora, una conclusione di stagione o ha un posto al sole. Presto purtroppo anche il paradiso delle signore dovrà essere sospeso a causa dell'interruzione delle registrazioni. Il paradiso delle signore, la sop presto sospesa. A causa dell'emergenza coronavirus, molti programmi sono stati sospesi e le registrazioni di diverse sop, anche all'estero, sono cessate. Ha colpito i telespettatori soprattutto la decisione degli autori di un posto al sole, che hanno provato a continuare a registrare mantenendo la distanza tra gli attori e cambiando quindi completamente lo stile delle riprese e della trama. Purtroppo però le successive misure che si è deciso di prendere hanno dovuto far cambiare nuovamente strada e un posto al sole è stato sospeso. Al suo posto sono andate poi in onda puntate del 2012. Anche con Doc nelle tue mani è successa la stessa cosa e i telespettatori non hanno potuto vedere l'atteso finale di stagione. Infatti le ultime puntate non sono state registrate e dunque si è deciso di dividere in due parti il medical drama. Anche in questo caso sarà possibile vedere la sua conclusione soltanto quando la situazione di emergenza si sarà risolta. Il paradiso delle signore sembra essere in procinto di seguire queste orme, non smettendo di fare compagnia ai teri spettatori attraverso repliche risalenti agli anni passati. Difatti nonostante fossero previste 160 puntate totali che avrebbero accompagnato il pubblico oltre la fine di maggio, l'emergenza sanitaria ha dovuto far finire tutto prima impedendo agli attori di proseguire le riprese. Il paradiso delle signore, la data dell'interruzione. Le registrazioni infatti avrebbero previsto spostamenti e contatti ravvicinati che al momento sono infatti vietati allo scopo di evitare il propagarsi del contagio. Per tale ragione il paradiso delle signore non sarà più trasmesso dopo la messa in onda della sua puntata numero 135 che segnerà la fine anticipata di questa nuova stagione. Dunque detto ciò possiamo affermare che il paradiso delle signore terminerà il 24 aprile. Nel comunicato con il quale la RAI ha annunciato questa decisione forzata si è precisato che qualora la situazione lo consentisse gli attori torneranno immediatamente a registrare e i telespettatori avranno assolutamente modo di vedere la conclusione di questa stagione. L'intenzione dunque è quella di tornare il prima possibile a girare nuove puntate e di far concludere il paradiso delle signore proprio quando era previsto. Inoltre in base a quello che si evince nel comunicato la RAI sarebbe intenzionata a trasmettere il prima possibile la SOP anche in base al messaggio positivo che viene trasmesso da quest'ultima. Infatti si parla di un'Italia del boom economico piena di speranza e con tante persone che hanno voglia di ripartire dopo molte difficoltà. Inoltre la RAI ha assicurato che i produttori continuano a preparare e scrivere le future puntate e tutta la macchina del paradiso delle signore continua a lavorare. Al momento però dopo la puntata 135 i telespettatori dovranno rinunciare alla loro SOP preferita e non si sa esattamente quando il paradiso delle signore potrà tornare in onda. Che ne pensate? Ritenete che la RAI avrebbe dovuto evitare di trasmettere le repliche così da fare compagnia con prodotti più nuovi ai rispettatori costretti a casa? O vi fa piacere rivedere le vecchie puntate della SOP? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.